1918 siamo qui a san giovanni rotondo e padre pio scrive ad un suo confratello padre angelico da sarno sicuramente padre angelico stava attraversando un periodo non facile della sua vita e padre pio gli scrive alcune parole importanti ecco che possiamo anche condividere con voi oggi sicuramente padre pio oggi vuole indirizzare anche a te caro amico caramica queste parole nell'apprendere le tue angustie e sofferenze mi conforto alquanto al solo pensiero che le permette gesù e che serviranno a sua maggior gloria ea tua maggiore santificazione non ti affliggere molto o mio carissimo angelico scrive padre pio affronta la prova a fronte serena per amore di colui che la permette